Anche nel racconto della Vergine Cuccia possiamo rilevare quello che è il punto di vista di Parini sulla mentalità gretta e meschina della nobiltà dell'epoca, un fatto insignificante di per sé, la reazione imprevista di un servo che dà un calcio alla cagnolina della sua dama perché è morso da questa, una reazione spropositata allo svenimento della dama, tutto un accorrere nel palazzo, addirittura eco personificazione impietosita che sembra soccorrere e di fronte a tutta questa scena agitata e movimentata, una scena in cui emerge lo sdegno e il grido di vendetta della cagnolina, inerme il povero servitore, il quale adonta dei suoi vent'anni di servizio fedele non può far altro che udire la condanna pronunciata dalla dama che lo porterà ad abbandonare tutto, a deporre la divisa e ad andare ramingo per la strada con la nuda consorte e con la squallida prole. Situazione inesorabile in cui la nobiltà ha fatto quadrato attorno alla cagnolina che viene definita come un idolo placato dai sacrifici umani e colta nella sua superbia. La narrazione viene condotta secondo l'artificio caro a Parini dello straniamento per cui i fatti, le reazioni della nobiltà sono presentati come fossero normali, ma c'è anche la compassione della voce narrante per il triste destino di solitudine ed emarginazione a cui va incontro il servitore. È un testo che la dice lunga su come la presunzione dei nobili ledesse quelli che erano i diritti e la dignità dell'uomo secondo i canoni illuministici.